Buongiorno, oggi sfruttiamo questa giornata di ponte per studiarci qualcosa di nuovo e con l'occasione ho accettato l'invito, la richiesta, ho accolto la richiesta di Mauro Murro per chi non lo conoscesse, Brain Repo, che tiene un bellissimo podcast in italiano Gitbar, anzi ve lo consiglio e straconsiglio e hanno fatto il nuovo sito, hanno qualche problema di Lighthouse e oggi perdiamo un po' di tempo a vederlo, vediamo se è quello giusto a fare un po' di improvement di questo sito e di quello che non so granché da tecnologia dietro, so che è sviluppato in astro so che... ciao Andre, buongiorno so che è quasi tutto statico, a parte un piccolo pezzo in React mi sono scaricato la repo e... beh, che dire man mano che ci avviciniamo ogni tanto riconsiglierò questo podcast che è veramente di altissimo valore con una puntata a settimana veramente top grazie e... e niente lo straconsiglio è un ottimo modo per rimanere sia aggiornati sia confrontarsi con veramente non so se chiamare gli speaker o comunque ospiti ecco, diciamo ospiti veramente di un certo valore e... e niente ho colto l'occasione di questo venerdì di... pseudoponte per... per metterci un po' a fare un po' di open e... e poi magari riprendiamo anche il nostro progetto che è online il nostro Magic Events che è... cioè ha delle grafiche nuovissime ma le scopriremo più avanti allora vediamo un po' da che parte partiamo questo è Repository è scritto in Astro è... un framework che conosco relativamente ma soprattutto se siete su Roma o volete seguirlo live il 21 dicembre abbiamo Fabio Biondi a Roma.js quel chino che non è la community romana del... del JavaScript che però facciamo anche streaming online quindi faremo proprio una verticale su Astro e... e il tutto nasce da questa diciamo da questa issue qua fare improvement di lighthouse e performance vediamo un po' con l'occasione ce lo studiamo un pochetto vediamo un po' innanzitutto da cosa partiamo partiamo dall'home page penso sia quella un po' più problematica facciamo un giro di lighthouse e vediamo che cosa esce nel frattempo che gira io un'altra cosa che farei volentieri è farci un giro sui GTmetrix vediamo un po' se evidenzia cose aggiuntive o meno allora performance 74 allora face contentful paint 1.1 time to interact comunque non è bellissimo larghe scontentful paint 7 secondi ecco già scopriamo subito che lanciare lighthouse così è falsato perché mi sta prendendo anche le estensioni di react dev tools va bene quindi lo apriamo una scheda in incognito vuoto di ogni estensione vuota di ogni perdita di tempo vediamo un po' ok sono perso intanto questa parte qua 97 vabbè dai Mauro poteva andare molto peggio alla fine scopriamo non c'è gran che da fare vediamo un po' vediamo un po' allora di cose particolari ci sono questi 1594 elementi nella pagina questo è il maximum child elements quindi quanto è annidato no maximum child elements non so cosa sia maximum DOM def è quanto è annidato no neanche troppo a large DOM increase memory usage cause longer style calculation eccetera eccetera 1594 elementi nel DOM probabilmente dovuti al fatto che qui ci sono tutte le puntate di questi vediamo un po' da quando è gennaio 2020 dai Mauro fra poco festeggi tre anni gennaio 2020 quindi qui vengono stappati tutti quanti e questo ovviamente causa un DOM abbastanza largo e lungo cache policy questo è una roba di matomo fuori poi abbiamo mille millisecondi quindi un secondo di cos'è il regime del taglio expense parsing compiling executing javascript cioè un secondo di qualcosa che non è script evaluation non è parsing rendering che sa questo secondo che cos'è ora andiamo a scoprire accessibilità accessibilità ci mancano dei ruoli ah ci sono dei ruoli dei role che hanno richiesta che richiedono un ruolo più specifico all'interno let's require children to contain a specific role la tassa si paga background for crown color non hanno abbastanza contrasto questo ok effettivamente questo griggetto sull'arancione un po' così ok poi in realtà c'avevo un'altra cosa che avevo notato prima della live vediamo se la ritrovo avoid the chaining long task no era qualcosa sul peso enable compression questo è sempre di qua le immagini vediamo gtmetrics che ci dice super rapido effettivamente è tutto statico quindi probabilmente non avremo granché da fare però abbiamo questi 1594 elementi che sono abbastanza impegnativi e server static venused ok diciamo che sicuramente è un punto di partenza waterfall c'era la parte della ricerca pure che è questo bellissimo database qua che pesa la bellezza di 500k compressed 4 mega uncompressed ok forse potremmo supporre che quel tempo di un secondo sia per fare parsing roba di quella roba lì di quel file lì andiamo a scoprire il codice allora questo è il progetto proprio first run una modifica in sospeso sì perché l'ho installato con pnpm allora pnpm run dev vediamo subito come funziona allora questo è astro questo è astro qui c'è un define config c'è una serie di integrazioni usa react all'interno usa tailwind per lo stile usa l'aira per questo è custom motore di ricerca il motore di ricerca chiudiamo questa parte qua si vede va mettiamo un pochetto motore di ricerca vediamo cosa espone innanzitutto espone questa una funzione ah questo è probabilmente un plugin fatto per astro in modo tale che quando fai la config serve start o build done fa l'init del database init database che è questa funzione qua su che prende tutti gli episodi li popola all'interno e li scrive su file ok quindi questo è per quanto riguarda l'aira che dovrebbe generare a questo punto se ho visto bene questo bellissimo search.db e questo è il nostro indice di l'aira ok quindi essendo una build statica prende tutti gli episodi li mette fa il parsing nel senso di popolette db eccolo qua fa inserisce tutti gli episodi all'interno del motore di ricerca e poi fa una serializzazione che non ho mai visto write db to file che cos'è un'altra get file name stringify del db ok tutto il database di l'aira è string serializzabile meglio lo salva a questo punto mi interessa se ci sarà un search si questo è il componente search questo è il react ok questi sono gli utili di l'aira lo use effect e crea un database e poi fa ok fa il fetch di quel di quel file lì che abbiamo generato ottimo ok e quindi qui si scarica tutto il database lo ripopola con il load che è suo si di l'aira e poi lo setta all'interno dello stato locale per poterlo poi utilizzare ok questo è come funziona l'aira come funziona astro in generale ma è che non ho mai visto pages ok partiamo dalle pages suppongo che ci sia questa index contact support episodes e speakers ok i tassi delle cartelle sembra un po' quella di pages di next.js quindi bene o male viene facile contatti speakers slash slug abbiamo la nostra pagina uno speaker giusto per andarcelo a vedere come se io clicco non so su speakers eccoli qua questi sono tutti gli host e qui sono tutti i guest se prendo l'ultimo questo è l'episodio questo è l'episodio ma c'è un link verso solo l'autore questo è speakers slash ah forse è soltanto per i primi sì ok solo per gli host quindi Mauro Luca Mattia eccetera eccetera quindi questa pagina qui fa riferimento soltanto a questa ok mentre episodi hanno tutto l'elenco degli episodi c'è un get static path simile a a pages va bene ok questo perché è rosso prevista l'espressione ok più o meno è interessante questo dove viene usata la ricerca perché la possibilità di astro che avevo letto è la possibilità di mischiare astro e altri framework la ricerca sarà dentro l'ether no facciamo così search eccola qua questo search qui importa il componente anziché puntuassero certamente così e poi gli dice client load state ipot di carina at page load hydrate the component when import completes ok ok questa è un po' la struttura allora torniamo un po' sul nostro light ah l'abbiamo lanciato in locale quindi dovremmo avere tutto sì a questo punto rilanciamolo anche qua in locale vediamo se cambia qualcosa ma non dovrebbe insomma ok enable text compression vabbè qui ovviamente il database non abbiamo la compressione locale però bene o male il succo del discorso è lo stesso tolto qualcosa di vitto in mezzo abbiamo 4 mega di database che effettivamente è tutto questo qua sono 4,8 mega ok e poi anche localhost la pagina sono 300k perché c'ha tutte le pagine my news e javascript questa è roba di vitto difficile fare vabbè poi dovremmo farne uno con la build di produzione ok come possiamo evitare che carichi tutto quanto tra un po' di sono già confrontato anche l'idea di base molto semplice è prendere tagliare i vari episodi e avere delle una paginazione per gli episodi in modo tale che ah siano comunque indicizzabili come static website dall'altra parte non li carichi tutti 139 all'interno ok andiamo a vedere com'è fatto allora cominciamo a buttarci qualche idea sopra l'altra idea potrebbe essere e sarà quella di magari disabilitare il fetch del il fetch della ricerca all'interno già come prima cosa quando arrivano mettere uno use effect ma magari fare il fetching del database che sono i 4 mega da gzppare soltanto quando l'utente magari ci clicca sopra e dargli un minimo di latenza potrebbe essere un altro modo per velocizzare per ottimizzare un po' la pagina allora partiamo dalla paginazione così facciamo poi due pull request differenti e facciamo un bellissimo qui status questo è un bellissimo fit ok ci siamo già spostati la branch è totalmente inutile al momento ma l'abbiamo fatto allora pages index lui prende get podcast feed questo qua vado a vederlo per curiosità ma feed parser get podcast from url e fa questa roba ok prende questo questi sono i titoli immagini e descrizioni ok data episodes e qui terra su tutti quanti ok quello che esce fuori è questo allora se noi lo dovessimo andare a splittare e fare una paginazione a livello di rotte che cosa abbiamo qua già da episodi con i singoli episodi con i singoli allora qui banalmente se noi facessimo uno slice 0-20 proprio in maniera molto semplice sono i primi 20 gli ultimi 20 episodi bene o male già qua così vediamo un po' se ci dà ragione il buon lighthouse dovremmo avere ottimizzato un po' il peso della pagina ebbè abbiamo già guadagnato ok tolta la compressione abbiamo solo il network payload ma non abbiamo i 1500 elementi all'interno della pagina ok la vera domanda è il vero dubbio è ok possiamo fare una paginazione lato client molto facile già abbiamo tutti i dati li teniamo dentro un array e poi li facciamo avanti e indietro però sarebbe forse meglio lato indicizzazione riuscire ad avere delle rotte differenti che caricano singolarmente le le pagine degli episodi in modo tale che dovremmo avere una home così con gli ultimi episodi una pagina 2 che potremmo fare come episodes già esiste episodes come si chiama questa episodio con tutto lo slag però 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 diciamo una cosa interessante se io vado su episodes questa c'è la funzione get static path get static path genera per ogni puntata genera le sue path quello che noi potremmo fare proviamoci al volo poi capiamo se la situazione è migliore è fare un altro episodes con la page chissà se funziona intanto vediamo a questo punto noi prendiamo podcast feed qui non dovremmo ah non so se va in conflitto subito subito dove ce ne siano due che se io ricarico questa questa è adesso uguale questa è l'immagine questo è tutto l'header questa è tutta la summary che è tutta la parte interna ok prima togliere la summary ok questo lo sta caricando ancora da slug non so se posso utilizzare due volte due volte la stessa rotta dinamica e andandogli a specificare nelle stati path di dire guarda queste me le generi in un modo queste me le generi in un altro non so se posso non possiamo farlo vediamo un po' perché questa qui dovrebbe essere la nostra episode card già c'è e ce l'abbiamo già pronta come componente importabile da qua perfetto stiamo un po' esplorando le possibilità perché qui mi aspetterei di poter fare un facciamo così intanto return di un array params page 1 anzi potremmo partire dalla 2 e qui andargli a dire così chissà se funziona se lo fa in quel modo quindi questo rimarrebbe così se io vado su 2 non me lo trovo perché continua a puntarmi ah no me l'ha preso me l'ha preso qui ho fatto esplodere tutto quanto vabbè stavo facendo un po' le cose facciamo così buttiamo un attimo tutto quanto menu back questo seo poi lo andiamo a rimettere cannot read property summary dentro page astro alla 33 ah giustamente anche questa roba qui non esiste più e title dentro a seo ok questo è obbligatorio invece ok andiamo a fare una cosa molto non so nulla sto andando un po' attentoni però questi sembrano essere tutti obbligatori e li rimettiamo obbligatori ok qui siamo dentro la nostra page quindi la page così si può usare episodio 2 non so se mi piace l'url però poi lo possiamo cambiare in qualsiasi momento rinominiamo la pagina quindi questi sono così se vado qua mi da questo e questo potrebbe essere la nostra pagina dell'episodio nel caso la sostituiamo non sono convintissimo di usare lo stesso identico tra slag e pagina ah però possiamo banalmente fare così page 2 page 3 questo è not found perfetto page 2 potrebbe essere un buon modo per gestire la paginazione ok va bene questo potrebbe funzionare così allora tornando su ok a questo punto dobbiamo popolare i dati popolare i dati abbiamo questo qui che è il nostro fetch degli episodi poi in realtà è molto facile questo data qua che sono gli episodi faccio proprio copia e incolla perché questi sono gli episodes che sono tutti gli array a questo punto io dovrei prendere dividere quanti ne facciamo ne facciamo 20 per pagina 20 per pagina significa fare cost pages uguale episodes punto length diviso 20 ma punto sale così arrotondiamo per eccesso e anche se ne avanza uno ce l'abbiamo sulla pagina nuova questi sono il numero di pagine perfetto a questo punto dovremmo andarci a tagliare le singole pagine quindi a questo punto potremmo fare vari modi con for for each roba facciamo un array punto non era from com'era per crearlo con un numero perché new array è vecchia pages fill con gli zero non mi ricordo perché bisognava farlo c'era un modo per generare un array rapido su cui poterci iterare solo perché se fai solo array così ti viene un array di undefined su cui non puoi iterare facciamo un bel map perché un reduce qua sotto comunque qui se ne rega poi review lo facciamo dopo map quindi questi sono nulla perché il primo elemento non ci interessa l'index è la nostra pagina ehi la buongiorno ok e qui andiamo a ritornare questa parte qua cosa dobbiamo ritornare un oggetto che ha come params page page trattino index index più uno volendo fare i pignoli var array name val 1 val 2 eh sì però devo partire da un numero di pages random mi ricordo che questa cosa qui si poteva fare in maniera differente javascript inizialize array off array off array off inizialize from a variable number of arguments regardless the number type of argument array di 7 eh no array off 7 ti genera un elemento singolo con dentro 7 oppure un array off di questi spread dati così ti vengono i tre elementi no non è array off vabbè poi facciamo refactoring allora questo genera un array di n pagine itero su tutte le pagine creo questa poi rubando dall'altro cosa qui questo props queste props qui sono quelle che poi serviranno sotto quindi props ci mettiamo episodes che cosa epizodes punto slice e dobbiamo dividere il nostro array in pagine dovrebbe essere l'abc di ogni sviluppatore ma adesso ovviamente allora il primo è da 0 a 20 il secondo è da quindi a 20 per index a 20 per index più 1 giusto? il primo che index è 0 è 0 20 però il secondo il secondo dovrebbe essere 21 quindi dovrebbe essere oddio perché è così difficile fare una paginazione 20 così viene 0 il primo e 20 il secondo perfetto vado alla seconda pagina questo è 1 parto dal ventesimo eh no giusto il ventesimo è il ventunesimo perché è 0 index ok qui c'è una virgola quindi io così ho creato un n pagine per ogni pagina dell'episodio vediamo se funzionano quindi a questo punto io suppongo io faccio copia e incolla astra non lo conosco quindi sto andando davanti a intuito che qui mi vado a estrarre le props che io ho passato qua sopra mi sembra facile qui hai ragione è giusto come hai fatto eh dovrebbe beh sono sicuro questo si usava tanto tempo fa e funziona sicuro ho un vago ricordo che c'era un metodo più bello con javascript nuovo per fare questa cosa qua ma non me lo ricordo ora se io vado a fare un console log di episodes questo console log dove me lo trovo ah vabbè mi pare che qua dov'è qui mi abbia stampato qualcosa ok ma me lo trovo anche in console di qua no perché viene fatto solo static site generation e quindi non si vede però se io ricarico qua questa dovrebbe essere la mia pagina con tutta la descrizione dentro eccetera eccetera ok come faccio a soprire se è andata a buon fine non lo scopro lo scopriamo solo vivendo ok questo è abbastanza semplice teoricamente avremmo quasi finito ora dentro questa pagina qui anziché questo dove sia eh che bello un attimo solo scusatemi ok ovviamente Il postino Quindi dicevamo Questo qua, questa pagina qui Dovrebbe riprendere un po' quella che è l'home page Io la ricerca la terrei anche Perché comunque è un qualcosa Che serve Come funziona Io prenderei proprio questo layout qua Effettivamente Ha suonato due volte, hai sentito? Si Indubbiamente Allora io faccio proprio copia e incolla Dai, me la sento Questo è il menu e il back Ok, quindi il menu lo teniamo Questo main Ce l'abbiamo Importiamo il componente Questo data qua non esiste Esiste solo episodes Questo l'abbiamo aggiunto noi di qua E questa card è questa TypeScript giustamente ci sta insultando Malamente ma Ci passiamo dopo Allora Quindi se io vado su Page 2 Ho due volte il menu Mi sembra giusto Ok Cosa abbiamo qua? Cosa abbiamo qua? I PFS con Paolo In sogna Che è pagina 2 Pagina 1 L'ultimo Che è uguale a questo Quindi se abbiamo fatto giustamente Se io vado qua Oppure vado su Episodes Slash Page 1 L'output è esattamente identico Perché sono le prime 20 Le ultime 20 Quindi arrivo alla 120 Giusto? Se io vado a pagina 2 119 E andando indietro Ok Bah E per chi si è collegato dopo Mi raccomando Mi raccomando Eh Mauro però Dobbiamo metterci il link Di Spotify al volo qua Dove cavolo stai? Se uno ti vuole sentire Dove clicca? Quale singole puntate? Seguite il podcast Di Mauro E del resto Della committiva Di Gitbar Ok Va bene Questo l'abbiamo fatto Ora il dubbio è Voglio avere una pagina 1 Voglio fare proprio le cose complicate Abbiamo già l'ompeggio Che fa la stessa cosa Teoricamente domani l'ompeggio E la cambi Questo ti rimane Così? Boh C'ho un po' Di dubbi Sulla Sulla SEO E su come gestirlo No vabbè Però adesso Lasciamolo così E Facciamo che Page 1 Non ci sta Giustamente Non c'è La pagina 1 Dobbiamo fare una issue Per mettere i link Ai vari client podcast Eh si Mauro Io ci sto provando A sponsorizzarlo Ma non so dove cliccare E Vabbè lo trovate su tutte le piattaforme Di podcast ormai Quindi La paginazione qua Ce l'abbiamo La pay page 1 La vogliamo Probabilmente no Mi piacerebbe più Che page 1 Fosse un redirect All'home page Vediamo un po' Che si può fare Astro Redirect Lo puoi impostare No Per questo è un incognino Vediamo un po' Se si può fare Questo proprio Non lo so proprio Io lo so un redirect Ah no Lo imposti su netlify Impossibile Giustamente Astro Non può fare redirect Perché è static site Allora No c'è proprio questo dubbietto qua Perché se io faccio page 1 Allora possiamo fare lato client Vabbè Ci pensiamo dopo Allora Episodi Episodi Qua sotto ci andiamo a mettere Una paginazione Come la facciamo la paginazione? Ci inventiamo un nuovo componente Mai fatto un componente astro Vediamo se riusciamo a farlo Cosa che ci potrebbe essere comodo Da qui partire? Boh Un redirect Allora Nuo componente Pagination astro Vabbè Facciamo le persone che fanno Che leggono la documentazione Installation Tutorial Astro components Tanto ci servono due cose in croce Qui ci va il javascript Ok E qua sotto ci va il nostro template Va bene Components script User fence Identify the component script In your astro component Va bene Importare altri astro Importare i framework Utilizzare i dati Eccetera eccetera E queste sono le Ah accedi tramite astro props L'abbiamo visto pure prima Ok Va bene Potremmo fare la nostra paginazione Quindi questa È per il nostro E const Uguale astro Punto props Ok Qui estraiamo le nostre props Che tipo di props ci serviranno? Pages Numero di pagine Pagina corrente Pagina corrente stavo scrivendo Current page E soprattutto poi link Quindi in realtà questa struttura dovrebbe essere un po' più complicata Perché queste pagine qui non è banalmente un numero Ma Da fuori dovrei sapere verso quali link Devo andare Supporta qualcosa di più complesso Vediamo un po' Beh suppongo di sì Dynamic Vai GSX Express Vabbè le props saranno il solito array Gestito come ci pare Sì Vabbè Mi manca un po' i typescript qua Già configurato? Tsconfig Andiamo a vedere un attimo typescript Dove ce l'ho Qua Setup Extend Astro client Import aliases Component props Questo volevamo Ah che carino Definisci le props come interfaccia su questo namespace Name qua e lui te lo mette Ci piace Ok Se faccio name me lo trovo Ok non è strict Vabbè poco male Ok quindi meglio Ci ragiono meglio Current page Bello Number A questo punto Le pages Che devono essere per forza un array Un array di pagine Anzi A me piace molto La sintassi così Devo dire Quando c'ho gli oggetti Un array Di che cosa Ci andiamo a mettere dentro Link Che è una string String E E Basta L'indice in realtà Lo prenderemo Lo possiamo prendere dall'array Diciamo che potrebbe essere Banalmente così Poi potrebbe diventare un array di string Che fine Cosa andiamo a stampare Cosa andiamo a stampare Number cos'è? È il secondo Me lo scrive Aiuto Che mi sto perdendo Numero di pagina Current page Ho messo Ho messo Ho messo Questo è il pagina Numero di pagina Attuale Che mi aspetto Poi vediamo Magari Mi sono perso qualcosa Poi io sono pigrissimo E non so Ma se andassimo a rubare Un bel Tailwind UI Dovrebbe avere anche La pagination Pagination Nessuno si offenderà Se facciamo Se copiamo questo E' la peppa Vabbè Allora intanto Incolliamolo qua Vediamo che succede Se io vado dentro La mia pagina E qua sotto Vado a utilizzare Pagination Astro Ok Ah no no Ce l'ho pure A parte che ho preso Quello gratuito Però ce l'ho pure io Ce l'ho anch'io Preso quella Gratuita apposta Previous And next Allora qui si sta arrabbiando Perché Probabilmente vuole le props E va bene Current page Uno Pages Abbiamo detto Che è un array Di link Vuoto Ok Però non si sta stampando Previous And next Sembra come se Non stesse prendendo Le classi Infatti Non ne ha Soltanto alcune Un po' Qua sotto Che c'era Poi Showing Uno Due Questo è super Complicato Ho preso Una paginazione Complicatissima Non mi ricordo Neanche Potevo fare un attimo Attenzione a quello Che prendevo Ah perché ho preso Tutta questa barra Qua Anche eccessiva Dove Andiamo a pulire un attimo Allora Previous Next Allora Showing Results Non ci interessa Previous Dovebbero essere Questi Questo Poi c'è Ok Queste sono le varie pagine Ne teniamo una sola Ok E questo è il next Con gli svg Ok Questo è hidden Sì sì l'ho visto L'esempio più minimale È questo Andre In realtà sotto Poi vabbè Dovrei fare l'accesso Per la licenza Ma in realtà Tutti questi che vedo Sono tutti fatti Così grossi Centered Beige Ma tanto poi Poi ci Ci ripassiamo Allora c'era un hidden Quasi Ok Però manca proprio il colore Ah tranquillo Manca proprio il colore Come se non si stesse Prendendo Le classi Vediamo un po' Relative L'ha preso Border Gray Ok Se ovviamente il copia e incolla Di questi dovrebbe funzionare Perfettamente Ma evidentemente Dove è un altro Rilancia il server Eh c'hai ragione Non lo interpreta Runtime Non lo interpreta Runtime Scusa Al vuoi Sì Runtime Dovrebbe rileggere i file Vediamo un po' Tailwind config Dentro SRC Tutti i file Astro Questo è Vado a vedere Perché ieri con Con donkey Stavamo commentando La stessa cosa L'ottimizzazione È Ni Ni Adesso io non sono L'ho usato su next Eccetera Teoricamente Dovrebbe essere Live Per cui Ogni volta Si fa la scansione Dei file Modificati E vede Se ci sono delle classi Se li include Nel file Non è qui Sembra Che Chiudo un attimo La chat di qua Perché non vedo Sembra importi Solo le classi No no Deve utilizzare Le classi utilizzate Scusa Deve importare Solo le classi utilizzate Quello si Però lo dovrebbe fare Con un Un watch Sui file Questo è il dubbio Un po' Almeno sul next Sulla configurazione Che ho sul next Fa così Non si è accorto Del nuovo file Ah Tu dici Che è questo Possibile Possibile Perché ho fatto Un nuovo file Strano Perché comunque Non mi è mai capitato Di doverlo fare Però Sì Probabilmente È questo Ok Qui abbiamo Una paginazione Qui abbiamo Una paginazione Con una marea Di roba Che Probabilmente Possiamo anche Andare un po' Justify between Facciamo Justify center A parte Non so più Proviamo a mettere Un bgp Adesso Esatto È vero Non era tanto Il watch È il watch Sui nuovi file Perlmeno Quello che potrebbe Essere successo Effettivamente Quando crei Un nuovo file Non se ne accorge Good catch Allora Tutta questa roba Mi sa che Allora Questo previous And next È la roba vecchia Che dovremmo Poter cancellare Esatto Quindi lasciamo La paginazione Così com'è Quanti sono L'abbiamo detto E sono 200 140 Sono 7 pagine Fino al momento Ce lo possiamo Allora Flex items Tutta sta roba qui Vediamo se serve Perché sennò Possiamo fare anche Banalmente un nav Questo isolate Non so cosa sia Con l'occasione Ce lo studiamo Wow Isolate Me l'ho perso Isolation Che proprietà è Isolation Wow Ok Auto o isolate Il default sarà Auto Sì Probabilmente Se no non ci sarebbe Bisogna metterlo Wow Figo Non so a cosa Serva qui Perché non penso Faccia Interpolazioni Particolari Però va bene Allora Questo Ce lo togliamo Ah C'è che carino Ci hanno dato pure Il current Tanti colori Un minimo Li adattiamo Allora Questa è la pagina No Teniamola aperta Va così Teniamo un po' più in alto Ok Section Tutta questa roba Allora Questo è il nav E' quello che ci serve A noi Il resto è solo Contenitore Che possiamo liberarcene Se Facciamo un po' di pulizia Il nav è il nostro elemento principale Allora Border grey Padding laterale Padding verticale Padding laterale Su mobile E' più ampio Vabbè Ora ci andiamo a vedere Su mobile Troppo ancora 100% Ah Qui c'è C'è un bug Che Marco Aveva Dovrebbe aver risolto Dovrebbe aver fatto Una pull request Quindi Cerco di non Toccarlo E faccio Un brutale Margin Bottom 60 Ok Ok Questo è centrato Justify Border top Grigetto Così Ci può anche Piacere Anzi Forse Vabbè Poi sul colore Lo vediamo Con calma VG white Non serve Facciamo un po' Di rumore In meno Ok Poi Isolate Inline flex Round Ok Questo è Pagination E questi sono I vari Elementi Previous Next E qua dentro Questi Va bene Ci siamo Giallo Gitbar In realtà Pensavo più Blu Che giallo No no Marco Ho visto La pura Di queste Ieri sera Quindi Faccio Cerco di farle Molto Isolate Isolate Liscio Scusate Che colore è questo Justify Dov'è BG slate 800 Giallo Giallo Ho paura Che non si veda Grange Ora Questo è il Previous Questo è l'SVG Con la cosa Vabbè Poi i colori Poi li vediamo Per esempio Per esempio Qua pure Tutti questi Indigo A sto punto Li cambiamo Tutti insieme Con slate Vabbè Vabbè Poi sullo stile Magari Ci lavoriamo Volevo vedere cose più divertenti Insieme Allora Questo qua Vabbè Poi c'è la mia Disturbo Che deve comunque dire Ok Allora Mettiamoci un par Margine di 4 Ok Con un PY Di 4 Anche se non mi sembra Stia cambiando Che Poi mi Giuro che mi Fermo Questo Ah Vedi Perché c'è il Padding Di quelli Sopra Giustamente Vabbè Più o meno Ok Andiamo a fare la paginazione Ora Questi dovrebbero essere Queste sono tutte le pages Io però devo sapere Quindi Questo è l'elenco degli episodi E una props E mi serve Poi mi serve sapere Quanti sono le pagine Pages Pages E qual è la current Che non mi ricordo mai Lo facciamo direttamente Col più uno Col più uno Ti passo la current page Ok Queste sono le props E noi andiamo a prenderci qua Quindi Pages Current page Questo lo possiamo togliere Questo lo possiamo togliere Questi poi i seoli Andiamo a vedere Quindi questi sono quelli corretti Current page Current page E qui su pages Dobbiamo andargli a costruire Quali sono tutte le pagine? Allora tutte le pagine sono Qui ho solo il numero E quindi devo rifarmi lo stesso gioco di prima Cosa succede se mi faccio una funzione qua fuori E la utilizzo sia da una parte che dall'altra? Facciamolo sotto esperimento Allora function Pages tools Non so Non mi viene un nome più bellino Questo qui dovrebbe fare questa parte qua Esattamente Io prendo un numero di pagine E ti ritorno un array di string Con tutte le pagine Che sono questo qua E dai E questo ritorno un array di string Fin qui tutto bello Così questo lo possiamo buttare Qui ci passiamo pages Qui gli arriva la nostra url Che andiamo qua A metterla qui Eh sì E qui è url index Quindi questo dovremmo averlo mantenuto uguale Ora questa funzione viene eseguita A lato statico qui E dovrebbe funzionare E poi lo possiamo rifare qua Dove pages era Questo qua sì Quindi genero tutti quanti Poi mappo Con url E devo ritornare In questo caso abbiamo detto Un array di oggetti Con la proprietà link Esatto Che dentro Banalmente No Banalmente un corno Questo è episodes Slash Url Credo di aver fatto In un giro di Micidiale Però adesso lo scopriamo Pages Current Page Ha rotto qualcosa? Page to Urls Non è definita Eh ah Vedi questo è quello che volevo scoprire Alla linea 26 Che è la nostra Dove è? No No Perché ha detto Page astro 26 3 Dentro get static path Pages to Urls Non è definito Quindi non lo posso definire fuori Perché io ho definito questa funzione qua Ma lui E questa qui La esegue A build time Senza il resto del contesto Quindi che dovrei fare Una cosa tipo del genere Definirla Quasi a un utility Che vuole lui Sì 26 del compilato Sì Eh questo è quello che volevo scoprire Quindi se lui Cioè tutta questa parte qua Ecco questo che mi interessava sapere Tutta questa parte tra i tre trattini Comunque non la interpreta Direttamente Provo a metterla su utils Una funzione veramente barbina Proviamo C'è già un utils Sì C'è sempre un utils Vabbè Qui fate un sacco di cose Che non so cosa si Ah no Questo è dentro markdown Ok Non c'è Lips Utils Eccola qua Sì C'è sta Proviamo Quindi se Vedete Lo importo Questa la cancello Ma come tutte le utils Ci sono sempre i morsi I morsi dentro gli utils Allora così è importato Così funziona Così funziona Sono il tappeto del codice Esatto Lo alzi e ci metti sotto un po' di roba È vero Ok Buono a sapersi Quindi tutto il codice Plain Dentro I tre trattini Viene eseguito solo a runtime Per passare Per lato layout Se devi usare Get static path Può accedere però a tutti gli import Anche giustamente Se no Questo non sarebbe In effetti questo non avrebbe funzionato Altrimenti Questo nel caso li importiamo dopo C'è un po' di pulizia Tanto questa roba qui non ci servirà Questo non lo so Poi li vediamo Ok Parse to rules Quindi fa questo qui E nel nostro Ok Il nostro console log Qui nel nostro pagination Arrivano correttamente Tutti i link E tutte le pagine A questo punto Avendo quell'array lì Andiamo a fare una cosa Molto semplice Spero Prendiamo questa pagina E gli diciamo Se ho visto bene Doveva essere simile GSX Vero? Andiamo a vedere Prima di fare stupidaggini Astro components Se io cerco un map Nella pagina Non lo trovo Yes Ok Similar to GSX Ah Non mi trova Che sto sbagliando Ah Sono previsti argomenti Ok Questi arriveranno Una page Col suo index Poi vediamo Se buttarcelo dentro E qui ci mettiamo Page.link Il suggeritore Non è così Così sì Però se faccio punto No Chissà Mi prende mille cose Ok E questo index Qui Facciamo così Ecco qua Le nostre sette paginette Con un colore Orribile Ok La current Lui dice Usa Z Index Cambiagli il colore Il default Invece è così Va bene Ci divertiamo un po' Col col colore Ora se io clicco Sul 2 Mi va a pagina 2 Se io clicco sul 3 Mi va a pagina 3 Grande mago Forse questa lineetta La toglierei pure Magic Meglio Buttiamo via Tutta sta roba Ok Più pulito Va bene Un po' di stile Poi prometto Che lo sistemo Vediamo giusto Il current Come faccio A dire Ah c'ho il dubbio Su questo current Page Facciamo le cose pure Accessibili Che non ricordo Va dato su tutti No Esatto Quando è l'attuale Ah io mi sono tenuto L'unico Giustamente Che era quello Attuale Come veniva La preview Evidenziata così Ok Si 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 Che bello Volevo fare cose Vedere l'inspector Vedere il profiler Però la ricerca La sistemiamo Dentro pranzo Questa era la pagina Ok Questa era la paginazione Basic Ok Con l'over Va bene Cosa succede Se è Current Allora Current Questo qui Dobbiamo farlo così Quindi Se Index È uguale A Current Page Allora così Altrimenti Undefined Ok Vediamo se funziona Current Current Page La pagina 4 Ovviamente Index P1 Sempre così Sempre così Da una parte Ho detto Mi passo il P1 All'altra Me lo passo Liscio E quindi La current Page La pagina 3 Bello Funziona Questo funziona Gli possiamo Giusto dare Un tocchetto Di Beh io Devo fare Questa cosa Qui Perché Sennò Diventa Tilta il cervello Anche se Cotailwind Mi tilta Comunque Se è Quello Corrente Tanto ormai Sozzo Per sozzo Facciamolo qua Così Allora Questo è Il Border Lui che Diceva Qui Usare Uno Slate Ah perché Qui il bg è Bianco Altrimenti Dove lo mettiamo No a sto punto Facciamo bene Tanto è una condizione Sola Allora No Non mi piace Ci ho ripensato Allora Se questa è la pagina Corrente Ci mettiamo Questo stile Qua Altrimenti Ci mettiamo Questo stile Qua Compreso il text Vediamo un po' che cosa è uscito fuori Mamma mia Va bene Sistemeremo i colori Prevent next Prevent next Sono complicati Come li faremmo Qui mi Farei un banalissimo Innanzitutto Index No Non c'è index È current page Che questa volta È col più uno Current page È Maggiore Aspettate La current page È la 7 È maggiore Uguale a Pages length Sì sì ma Non ne scappavo Non ne scappavo Sì vado a 7 No Come true Come true Astro Ma no Se ritorno un booleano In JSX Non deve stampare nulla Come true Mi è venuta subito a condizione E mi ha fregato così Difference between Astro In JSX Attributes Comment Eh no Qui manca una cosa fondamentale Che stiamo scherzando Eh 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 Mica solo questi Maledetto Quindi Se è minore Del page length Allora Metti questo Altrimenti null Te lo devo mettere in disabilitato Non lo vuoi proprio vedere Quanto siete pretenziosi Questo è 7 così Dai 6 all'ultima Va bene così E Se non sono all'ultima Cosa ci metto Vabbè a sto punto faccio pure questa così Non amo le cose che spariscono Così funziona Così no Non deve essere maggiore di 0 Per farlo vedere Perché deve essere maggiore di 1 Perché è questo dannatissimo Va bene E adesso mettiamoci link Quindi Qua dentro Cosa ci va Allora considerando che abbiamo messo Questo controllo qui Possiamo farcela Cavarcela facilmente Non lo so Non ti piace le cose che spariscono Però il disabilitato Mi sa proprio di inutile Però Dovrei No no Non credo avere un'opinione Su In merito Boh Forse lo farei sparire Però E qui è Pages Current page Meno 1 Meno 2 Link Qui va la pagina 1 Magic Funzionato Se io vado alla pagina 5 Mi porta alla pagina 4 Va bene E questo Stessa cosa qua sotto Qui c'è il trucco Però così Questa va la 6 Questa va la 7 E questa Non c'è Uff Ce l'abbiamo fatta Non è il massimo Della grafica Però Cosa rimane Cosa rimane Cosa rimane Che questa stessa cosa Rimane in home page A questo punto Perché qua sotto Mettiamo una paginazione Anche qua Ok 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 Tutto sta Andando Sta convergendo Dove siamo Dove siamo Dove siamo Questa page Qui è quella Con tutta la paginazione Copia di questa cosa qua La portiamo dentro La home page Quindi ci andiamo A prestare Pagination Cost pages E' uguale a Data Punto Episodes Length Diviso 20 Poi dovremmo fare Le cose proprio Fatte bene Con Tutte queste Una costante Da qualche parte Lo rifaremo Ok Quindi Vediamo un po' Se è venuto bene Qui Nel home page C'è la paginazione E qui Tornando al discorso Di prima Di lighthouse Vabbè L'abbiamo fatto poco fa Quindi Dovrebbe essere Ottimizzato Per evitare Di Non caricare 1594 Se non mi guardo male Elementi del DOM Text compression Non parla di Solo network Pelozio Ma questo Già sappiamo Che cos'è Ok Questo lo proviamo Poi con la build Di produzione Clicco Clicco su 2 A livello di 6 Clicco su 2 C'è un link Che mi porta Alla seconda Pagina Perfetto Funziona La chicchetta Dovrebbe essere Se clicco su 1 Mi va Alla pagina Sle Di 0 Nell'ompe Cioè Alla pagina Di 0 Ora Se io mappo Questi qua Pages To Urla Non sei d'accordo Ma la pagina 1 La pagina 1 Di questa È identica Alla home page Quindi devo Voglio evitare Di dare a google Due pagine Esattamente identiche C'è un motivo Dietro Eh questo è un altro Problema Adesso Non stiamo Facendo Architettura Del sito Quindi essendo Comunque il sito Dove la cosa Principale È l'elenco Dei Degli episodi Avere una pagina Aggiuntiva Che è identica A livello Di layout Di contenuto Nell'oggetto Dei link Un bel leaf Nell'oggetto Nell'oggetto Dei link Un bel leaf Che se Esatto Però volevo farlo Perché qui Io mi sto portando Appresso solo Le pages Episodes Episodes Page Tours Mi piace di più Canonical in home page Wow Quanto vi piace Quanto Sì Sarebbe giusto Però faccio così Allora Questo qui rimane così Poi Questo diventa così Questo abbiamo rinominato Perché ci piace così Ok E questo lo togliamo da qua Ma sì Donkey Ne sa Appalate Vabbè Poi magari lo facciamo Anche perché qui vedo che già c'era il canonico il pronto Già nella Nella SEO Però volevo fare Se intanto faccio questa modifica qua Poi se cambia la home Sono cavoli Siamo anche d'accordo Ma l'ho detto che non esiste la pagina Aspetta Questo così Questo l'ho ripristinato Giusto dovrebbe funzionare Perfetto Questo non sta funzionando Perché qua sopra Ah vedi perché questo è il params Voleva solo il params È vero Perché slash episodes Non erano tutte le urle Ma erano le page Issue Quindi questo mi viene con lo doppio slash sul params No Va bene Ho fatto una stronzata Mi conviene rimapparlo comunque dopo Va bene Ok Ok Va bene Va bene Diamo retta al buon Qui che mi son perso La paginazione Ok L'ultimo control z Va bene Diamo retta Come gliela diamo retta Va bene Funziona tutto quanto Si Chiudiamo questa cosa Allora Layout Canonical Build title Che cos'era Vediamo un po' Non so che cosa fosse È preso da un episodio No C'è proprio Non so cosa sia Non mi interessa Lo utilizzo e basta Tutti gli episodi Pagina 2 Git bar Ok Description Eh eh Mo Quest'altra funzione qui Che ho preparato Che cos'era Ma Utils No Non usarlo Ok Ok E qui viene fuori Il mio Tallone Di Achille Qui L'avevi già messo Mauro Appunto Prendiamo quella Dell'home page Description Adesso Ce la dobbiamo inventare Canonical Il canonical Di base Dovrebbe essere Banalmente Ah qui ci sono i params Come prendo i params Nello stesso modo Abbiamo un po' Page Uguale Astro Punto params Bomba E quindi io qua Posso fare questo Abbiamo un po' Se vi faccio Visualizzazione Orgente Me lo da Canonical Gitbar Punto it Slash episodes Slash page Trattino 2 Giusto E a questo punto La magia del Natale Page Uguale A page 1 Allora Mandalo di qua Dico bene Donkey Fronky Master of SEO Quindi qua È page 2 Se vado a page 1 Dico a google In realtà Vai sulla home page No però così Se punta La canonical Scusa Non è il contrario Cioè se io metto La canonical Sulla home page Mi va a indicizzare Page 1 Anziché La home page Non vorrei Spaccare L'indicizzazione Del sito Eh il master È l'home page Stiamo parlando proprio Dell'home page Del sito È l'url della pagina Il google ritiene Più rappresentativo Tra un insieme di pagine Duplicate Quindi episodio 1 Non esiste Esatto E quindi Va alla canonical Sull'home page Come dice qua Perfetto Per le pagine duplicate È così È così È così Così se domani Cambiamo l'home page Ci devono Chi sarà Si dovrà ricordare Di sistemare questo canonical Questo è Però in questo modo Almeno ce l'abbiamo pulito Vediamo un attimo L'ho già testato Mi ricordo Vado qui Faccio uno Sì Ok Perfetto Va bene Queste le possiamo buttare La description Non ce l'abbiamo La copriamo dall'home page Facciamo così La copriamo dall'home page E poi apriamo una nuova issue Su github Qualcuno L'andrà a migliorare Va bene Ce l'abbiamo fatta Ok Proviamo a fare la builder Che non l'ho mai fatta Quindi Qui stop Package JSON Mi aspetto Build Ok Pnpm Build Ok Qui ha fatto la build Di tutto E questo è tutto L'intero sito Astro preview Che fa Quello che mi aspetto Dopo la build Esatto E qui si ferma Qua Io vado su Lighthouse Adesso Non si dovrebbe trovare Tutta la parte Di Di Bundling Sì 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 Penso di sì Magari era un'altra cosa Che andava fatta Indipendentemente Dalla build Dalla velocità Che l'ha fatto È proprio così 96% 96% Elementate Property Network payload È la prossima Problema Però Le 1500 Elementi Del DOM Le abbiamo puliti E da 300k Ok Da 300kb Di Homepage Se non ricordo male Siamo scesi A 50 Quindi dovrebbe esserci L'improvement No Qui dice 39 Cosa dice Netlify Size 39 32 Ok 39 Overnetwork Gzippato 312 Qui invece 56 Possibile Ah 56 Perché non c'è Gzippato 55 Resource Tra l'altro Mi dice Ho trasferito Ancora di più Di quant'è Il contenuto reale Del file Ho un 0.3 In più Comunque Gzippato Dovrebbe essere Ancora di meno Qui viene 35 KB Va bene Ok Rimasto soltanto Di mettere cariuccio Questi Pulsantini qua Però Non vi ammorbo Con questa parte Mi sembra Poco interessante Mettere i colori Su Di tailwind Quindi in questo momento Facciamo No Allora Vediamo che cosa abbiamo aggiunto Se ne abbiamo fatto Stronserie Pagination Episode Ah proviamo Aspettate Ultima cosa Proviamo a pulire un pochetto Quindi questa cosa Effettivamente Non ci sta servendo Non che siano Dannosi Però Questa così Questa così E questa così Perfetto Allora Paginazione Pages Eccetera Qui abbiamo fatto Eh vedi Mi sono perso Questa parte No È giusto Questo slice Lo lasciamo In modo che Vengono visualizzati Non peggi I primi 20 Non è il massimo Della bellezza Però Ok Poi faccio La paginazione Sotto Questa è la nostra Funzione magica Che fa Rob A parte la GitHub Action Ah Sì Proviamo GitHub SRC Components Pagination GitHub SRC Pages Episodes Commit Menuem Fit Split Episodes List In pagina Eh lo so Lo so Lo so C'hai ragione Però Eh lo voglio fare Insieme allo stile Push Attacca No Lo voglio fare Insieme allo stile All'aggiustamento Di stile Intanto vediamo Se ce la siamo Portati avanti Allora Come Non fare Una pull request Non scrivere Nulla Vai Vabbè Giusto Bisogna Anche Specificare Le cose Come vanno Fatte E come Non vanno Fatte Così Non vanno Fatte Allora Deploying Processing Vediamo un po' Netlify Don't try this at home Mentre carica L'altra cosa Che volevo Vedere Era quella Della ricerca Quella Della ricerca Perché abbiamo Questo bellissimi 4 mega Trasferiti Su rete Come funziona La ricerca Se io cerco React Native Eccolo qua Così me lo cerca Subito Non lo so Io forse Questo fetch Del json Lo farei Quando inizio A digitare Qualcosa O quando Faccio Al focus Cioè Se io Apro il sito Anche da mobile Ma non Voglio fare Non userò Mai la ricerca Mi sto cercando Un episodio L'ultimo Per cliccarci Voglio cercare I contatti Sono 500 KB Barra 4 mega 550 KB Scaricati Di un json E passati Che Probabilmente Non Non vorrei Ok Posso poggiare Async Lo adesync No è già dentro Uno use effect Dopo il mount Lo fa Al mount Meglio Un po' più soft Quindi Vediamo un po' C'è questa barretta Di netlify Maledetta Speriamo Non complichi Lighthouse Vai Wow Wow Questi sono tutti La roba Di matomo Vabbè Servire Sai Questa è tutta La roba Loro Beh Dai Vediamo un po' Ce l'abbiamo fatta Devo mettere Devo cominciare A mettere Le gif Su Su twitch Vabbè Dai Eh si Questa cosa qui Con i 1594 Elementi Che hanno Allora Scorre Se avete Fond the matrix Ok Expand the view Che cos'è Ok Vedete Se c'erano qualche C'è la possibilità Di stamparlo Si Opening A viewer Che cos'è Il viewer Wow Carino Ma ci passi Mi fa vedere Anche il link Si Questo Dovrei averlo preso No Morto Ah volevo Mettere una APR Ma giusto Per Per averci Una reference Save as JSON Ah se io vado sul Viewer Da solo posso Caricare il JSON Non funziona Più il Viewer Spero funzioni Internet Almeno sto Parlando Con qualcuno Si Il sito L'ha Ricaricato Va bene Dai Diciamo che Questo da qui A qui L'abbiamo Fatto Un piccolo Passetto L'abbiamo Portato Davanti Va bene Va bene Va bene Sulla UX Del search Ci dobbiamo Scriverò un po' Sul gruppo Telegram Vediamo Chi L'opinione Vare Non so Sono 400 500 KB Su un sito Che complessivamente Ne fa Ah si Portato Prendiamo Quello vecchio Non me lo vedo Più Eh sono Un mega e due Tutto il sito Di cui 500 KB Sono la ricerca Per la index Di Google È più consigliato Web page Taste Test Web page Test Mamma mia Robertone Quante ne sa Allora Site performance Core web vitals Lighthouse Visual Comparer Traceroute Ok Lancio Bruttezza È che vai In coda Al mondo Se non paghi Ah Ok Vediamo un po' Se c'è scritto Sono partito Dai Sono partito Sembra Stia già Facendo il test Visual Studio Code Extension Faccio Va bene Adesso facciamo Girare un paio Di queste cose L'altro Lancialo sulla preview Sì è quello che volevo fare Volevo evitare che mi bloccasse la coda Se ne mando in parallelo Perché Mi aspetto che siano abbastanza più furbi Di me Queste persone qua Vai Ok Wow Andiamo un po' al volo Grazie dell'imbeccata Allora Observed Matrix Addirittura un secondo first byte Questo non li fai Andrebbe rifatto il rerun test Real users measurement Vabbè Mi sembra che siamo abbastanza Ottimo E questo è l'altro Ma stiamo parlando Ugualmente First view in 5 secondi 82 In realtà è meno performante Quello nuovo Secondo questo Run 2 Content breakdown Ok Questo è in byte Carino Ah fa 3 run Lo segue 3 volte Per rendere la media Carino Timeline view Wow Ti apre un Un Dev tools All'interno Che figata È fighissimo Se non fosse Che non sta dando ragione A tutto il lavoro Fatto fino adesso No A parte di scherzi Non Non so neanche se Netlify Le versioni di preview Si hanno depotenziate O cose del genere Non ne ho la più palida idea Processing breakdown Ok Beh si Insight Te ne fa parecchi Clicca sul waterfall Ok Ah beh questa però è la stessa di gtmetrics Non è che hanno fatto chissà che cosa Git bar Contact CSS E index CSS Ma chissà perché Mi si è aspettato L'unico fa il CSS Generale Invece Astro ne fa Differenti Poi c'è il search JS Perché viene caricato Lato client Poi tutte le immagini Gran parte È ritardo È netlify Sì sì DNS Connect SSL È già perso mezzo secondo Beh Bello strumento Comunque Da usare Magari Con un tot di Di consistenza Per vedere effettivamente I Su siti reali Va Bello Grazie Dell'imbeccata Rob Va bene Noi pur lì Questa abbiamo fatta Ma è l'1 e 26 Sulla search C'è ancora da Ghiacchierarci un po' Quindi Diciamo che ce ne possiamo Andare a pranzo Poi dopo pranzo Si stiamo Un paio di colori E la costante Con il numero di episodi Così siamo tutti Il nostro Spirito Di buoni sviluppatori È È a posto Va bene Ragazzi Grazie Grazie per la compagnia Vi lascio con un bellissimo link Che è Gitbar Gitbar.it Lo trovate su Su I link Che metteremo Nella prossima Purrequest Però Spotify Tutte le piattaforme di podcast Sponsorizzo L'ottimo lavoro di Mauro E tutta la band Va bene Grazie a tutti